E cazzo E bella a tutti ragazzi e bambini In questo nuovo video sono Stef Non potete capire cosa è successo Guardate adesso la mia skin Perché volevo comprarmi una peccola Ma ecco qui cosa è successo BUUU Gnià Guardate qui che pro Oh che cazzo Oh Guardate qua tutti che pio Quanta la cacca Non si sciacqua questo mebile interno Questi qui Vagliano Oh too mad Raga Speriamo che si sente Oh too mad Too mad Too mad Affanculo Ecco qua come fare tibbing Ho fatto la cacca il culo si sciacqua Sono fortunato Questa è una conic Perché sono Bro A me Del piccone non me ne importa niente Perché questo qua già è bellissimo Vedete? È la migliore piccola del mondo Lui ma quella mia cacca è una conicola di Fortnite Lui ma quella amici tu ha giocato fortnite Su della classe E lui è E lui mandagli la foto delle iconiche Perché almeno li facciamo rasicare A quei pundioni Grande Senza ammirare Che è il negro Che è il negro la seconda kill è troppo easy non so perchè non miravo ma va bene che bello ecco ragazzi ecco che serve l'Iconic a fare kill easy anche se sei nabbo come ti ho visto ho ammazzato due persone senza mirare e ho sprecato un casino di colpi però l'ho ammazzato perchè sono un Iconic tazzo e bello what's it ragazzi come ho chiuso a vedere sono brutto dicevo ai miei amici che questo scherzo faceva calare ma non è vero finalmente ho potuto ricevere una skin che mi piace gancho 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 perchè fa la cacca tanto 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 il caccio è la cesta è vero 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 no no ragazzi sto laggando veramente tanto nemmeno mi si muove ok per fortuna che non sono ingrasciata è vero 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 che ha questo skill che ha questo skill che ha questo skill è vero è vero è vero sono stato fortunato perché questo skill costa un scendere così 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 no ecco c'è solo un fucile di assalto Grazie mille Grazie mille Oh cazzo Ragazzi mi avete visto quanto sono Noob Ecco quando vedo qualcuno ballo scenario Vabbè caso come lo chiamate Ora faccio rossicare tutti gli albanesi Ho la skin più bella del gioco E il balletto più bello del gioco Secondo me Sono queste le cose più belle del mondo Il lato Sì Ma un attimo Un attimo che sia un attimo No non è un attimo però Non è un attimo 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 Sì No No non è vero, e mi sentiamo tutti a parte, non è detto che ci aveva la faccia poco seria, perché non lo funziona per voi, non è vero, 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 è vero. No, 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 no. Vediamo se riuscirò a fare il mio record di kill, il mio record di kill è 9, no, non è vero, magari, il mio record di kill è forse 7, sì, 7. Grazie. 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 mamma mia che partita la mia che partita Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.